Ti chiami? Denise. E di che istituto sei? Bertarelli. Quanti anni hai? 21. E che cosa ti è piaciuto di più di questo corso? La parte sportiva, i vegani. E che cosa hai imparato anche grazie al Food Factor? A stare attenti a comprare di più un alimento, ad assumerlo durante la giornata. E che cosa ti è rimasto più impresso, quindi che cosa ne trai da questa giornata? La parte del gruppo, quando dovevamo fare delle ideologie sulle aziende. E quindi cosa hai imparato di più da te stessa? A mettermi in gioco e mostra, sempre con i minimi... Quindi il lavoro di gruppo, ti è piaciuto fare squadra? Sì, sì, la squadra. E com'è stato quando ognuno con le proprie idee, quindi siete riusciti a fare un bel lavoro invece? Sì, mi sono divertita molto e più mi sono messa molto in gioco comunque con la mia mente, perché abbiamo dovuto pensare a tante cose per tirare su un'azienda, ce ne vuole, i pensieri. E le aziende invece che hanno raccontato la loro esperienza e i loro prodotti, che cosa ti ha colpito di più del loro racconto? Cosa ti è piaciuto di più del loro racconto? Il fatto che costa di meno, che viene usato tutto questo fieno e che poi è anche resistente, no? Quindi diciamo la bioarchitettura. E poi un profitto, ecco. Ok, la bioarchitettura, perfetto. E i formaggi come erano invece? Buoni, belli anche da vedere. Va bene, ti ringrazio per la tua testimonianza. Niente, ciao. Arrivederci.